Ancora una domenica di importanti sfide per le squadre di calcio Fantine per l'ottava giornata del campionato di promozione Gironea in atteso posticipo per l'audace Cerignola che giocherà nel pomeriggio alle 17.30 sul campo dell'ex Enziteto contro il Giovinazzo. La formazione di Massimo Gallo non sta conoscendo ostacoli in questa prima parte di stagione solitaria e ne metta la classifica e con sette vittorie conquistate e solitaria cerca di mantenere il trend positivo. Massimo Gallo, tecnico giallo-azzurro, dovrebbe stirare la stessa formazione che ha vinto domenica scorsa. Il Giovinazzo invece lotta per la salvezza e nonostante Milidi per il terzo anno consecutivo in questa serie arranca anche perché c'è stato anche il cambio di allenatore. Esattamente con Simoni che era segnato di dimissioni dopo il K.O. di San Marco e con l'arrivo di De Bellis bisogna risalire Rachina per assicurarsi la salvezza. Importante sfida anche per la sportvania Cerignola nella quinta giornata di andata del campionato di prima categoria. I giallo-blu guidati da Michele Schiavone dopo la bella prestazione ottenuta nella gara di Coppa Puglia sterminando con un 3-0 netto il Trinitapoli affronta al campo Cercat nel pomeriggio la formazione del Sauri già incontrata nella scorsa stagione e con il quale ha un rapporto di grande fratellanza non solo a livello di riposi ma anche a livello di giocatori. Si attende dunque un'altra sfida ininteressante sulla strada per cercare di raggiungere le posizioni alte della classifica.